Buongiorno, uscita oggi in compagnia sempre di mio fratello, non si molla e appena arrivati nel bosco, uno, due, poi tre, guardate, e un altro qua, sono quattro, dai, speriamo, a dopo, un altro, ragazzi, questi sono di nascita, sono belli, 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 croc, wow, bello, e un altro qua, tutto mangiato, abbiamo fatto, siamo cinque minuti nel bosco, io spero che continui così, perché veramente ci divertiamo, speriamo, dai, a dopo, ancora, ragazzi, siamo sempre nello stesso punto, guardate, che belli, qua, uno, dove, aspetta che mi ammazzo, un altro qua, zio, vieni, il mio zio ci ha abbandonato, perché pensava di non trovarne, ma, ciao, ciao, ce ne sono tantissimi, a dopo, eccoci, un altro, ma guardate che bello che ha questo, ragazzi, croc, ma, bianchissimo, poi lì abbiamo il fratellino che lo lasciamo giù, perché è piccolino, un altro qua, piccolino, e questo lo prendiamo, perché è bello, no, no, che bello, 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 ragazzi, io non ci sto credendo, non me lo sarei mai aspettato, io adesso ho trovato questo, bello, 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 e mio fratello mi ha appena detto che ne ha trovati altri tre qua sopra, e adesso andrò a vedere, bello, 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 andiamo a vedere gli altri, stacco un attimo, e poi riprendo, ragazzi, miei, cinque, tutti insieme, uno più bello dell'altro, uno, Gio, vieni che te li do a te, mi vai a mettere nel cestino, mamma mia, mamma mia, sì, siamo in un brutto posto, guardate, occhio, eh, uno, poi, beh, li mettiamo qua, ecco, poi, due, sì, ma che funghi, ragazzi, poi, tre, quattro, e cinque, io, ragazzi, se continuiamo così è mezz'ora che sia nel bosco, boh, speriamo, dai, a dopo, un altro, guardate che belli che sono, però, belli freschi, croc, e ciao, mamma mia, e chi se lo aspettava, ma dopo? ho passato un bel quarto d'ora a non trovarne più, e adesso, un altro, che fa la sua porcina figura, guardate che bello, croc, eh, eh, sì, ci stiamo divertendo, ci stiamo divertendo, posto nuovo, eh, non eravamo mai venuti qua, ce l'hanno consigliato, e devo dire che è andata bene, a dopo, un altro, guardate che bello, dito in gola, bello, bello, sì, il momento di follia è finito, ne troviamo uno qua, uno là, però, si trova ancora, non si molla mai, a dopo, un altro, tutto sotto, bello, 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 ma che buon volotto, bello, eh sì, bello, bello, poi qua abbiamo preso, guarda, questo è il risultato per ora, e qua, gallinacci, guardate, non ci lamentiamo, dai, staremo ancora un venti minuti, poi ci ritireremo, per oggi basta, siamo cotti, speriamo di trovarne ancora uno, dai, a dopo, ragazzi, non è finita, cinque, tutti in fila indiana, allora, uno, bello, poi, ne ha trovato un altro mio fratello intanto, mettiamo qua, poi, due, tre, giù, tre, quattro, eh, dobbiamo andare sì, no, l'ho rotto, puttana merda, eh, vabbè, lo tolgo dopo questo, non ce la faccio, e poi, e poi, e poi, e poi, cinque, belli, 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 andiamo a vedere quello di mio fratello, eh, questo qua mi è saltata via la cappella, guarda, c'è ancora il gambo sottoterra, dov'è che l'hai trovato? Dove? Ah, qua, quindi sono sei, guardate qua, che gambo, bello, buono, 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 speriamo a dopo, eccoci, scusatemi per la parolaccia di prima, mi è scappata, un altro, qua, vai, tiralo fuori, giù, così vado poi a prendere l'altro su, troc, bello, e poi, tutti nello stesso punto, eh, penso quanti, dieci funghi, nove, tutti nello stesso punto, e qua, abbiamo l'altro, vai, cavatelo, un po', un po' mangiato questo, eh, sopra, eh, va bene, è bello, guarda che fungo, buono, 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 a dopo, eccoci ragazzi, vorremmo restare di più, ma dobbiamo andare via, che poi io stasera lavoro, è stata una bella mattinata, ci siamo divertiti, e niente, al prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi, numerosi, e noi pubblicheremo sempre più video, ciao a tutti! Ragazzi, avevo appena visto qua, che avevano raccolto, infatti avevamo pulito, ho detto, no, qua, siamo entrati in una zona che non va bene, poi faccio due passi, ho visto un bocciottino piccolino, qua, piccolino, bocciotto, a raccogliere, eccolo qui, eccolo, due, belli, belli, dai, a dopo!